Avete voluto oggi essere presente a questa nuova edizione di Fee Only, qual è la motivazione? Innanzitutto è un'occasione importante che dà visibilità al nostro brand, siamo in una fase espansiva a livello di gruppo, io rappresento una delle società del gruppo Avalon, in particolare Avalon Asset Management, che è la società che si occupa di strutturare e gestire fondi di investimento in Europa. È un'occasione particolarmente grata perché ci troviamo in una fase espansiva e di brand recognition, tale per cui essere presenti qui con il nostro stand, poter parlare dei nostri prodotti, poter in qualche modo veicolare non solo il prodotto in sé, il fondo di investimento o l'oggetto finanziario, ma anche il brand a questo punto diventa una questione strategica. Siamo molto felici della visibilità che abbiamo ottenuto qui in questi due giorni, abbiamo avuto notevoli contatti col mondo della finanza locale, ovviamente dei consulenti e degli operatori come noi che riconosciamo, conosciamo, è sempre un piacere poter venire a stringere le mani dei nostri competitor, partner e clienti laddove è ragionevolmente possibile, quindi è un'occasione molto importante per noi per poter veicolare il brand a questo punto della nostra dinamica di crescita aziendale. Ecco, proprio qui presentate i vostri fondi. Sì, abbiamo fatto una selezione di quattro dei fondi, diciamo, migliori secondo il cluster di clientela che abbiamo individuato qui sull'evento di Verona. Sono tre fondi USITS, due lussemburghesi e un maltese, un fondo alternative particolarmente esotico, adesso vi racconterò anche il perché, principalmente per dare anche spicco alla fase di costruzione di fondi alternativi che sono leggermente periferici rispetto all'utilizzo di fondi di investimento sul mondo retail. I due fondi USITS, lussemburghesi, questi fondi sono in piattaforma presso Abano Asset Management e quindi noi svolgiamo ruolo di management company e investment manager per questi fondi, tranne che per l'alternative dove esiste un manager terzo che svolge in maniera impeccabile ruolo di executor. Multi Challenge Swan è un fondo balanced, 5 stelle Morningstar, è uno dei migliori fondi USITS che abbiamo in piattaforma, questo è il motivo per cui abbiamo deciso di portarlo in visione all'audience dell'evento di Verona. È ovviamente un fondo retail, ha una serie di classi che consentono l'investimento anche in valute diverse dall'euro. è un prodotto che può essere acquistato a retail, come ho menzionato poco fa, ed è uno dei prodotti volendo più vendibili dal punto di vista anche della percezione dell'oggetto in sé. Il secondo fondo invece si chiama International Equity, è un fondo USITS estremamente tradizionale long-holly, anche questo spicca per performance in particolare comparato al proprio benchmark, è un fondo che ha molti anni di storia alle spalle, è un track record assolutamente consolidato, questo è uno dei fattori per cui abbiamo deciso di presentarlo in questa particolare occasione. Il terzo fondo di cui sono molto onorato di poter parlare è un fondo USITS, Total Return, è un fondo un po' diverso dai precedenti due, perché non è così tradizionale nella filosofia di investimento, è base al proprio funzionamento su un algoritmo sviluppato dalla nostra ricerca e sviluppo in Svizzera e offre delle performance eccezionali, quest'anno il fondo sta performando oltre ogni aspettativa, le condizioni di mercato sicuramente sono favorevoli in generale, ma devo dire che la logica con cui il fondo funziona ed esegue la propria filosofia di investimento è assolutamente premiante in questa fase, Samanalfa è il nome e questo è un fondo USITS maltese. Ovviamente tutti questi fondi possono essere acquistati attraverso gli intermediari finanziari tradizionali. Il terzo ed ultimo fondo è un fondo un po' più particolare rispetto agli altri, innanzitutto per la denominazione formale, è un fondo alternative, quindi si rivolge a investitori professionali e ha una filosofia di investimento decisamente peculiare, si tratta di un fondo che fa arbitraggio sulle commodities ed è un fondo che può essere venduto, come ho detto poco fa, ad investitori professionali, quindi non fa parte del target retail, ma è un oggetto che ha una propria filosofia particolare che può essere, volendo, utilizzata on top su portafogli decisamente più orientati a retail, Commodity Arbitrage Fund è il nome del fondo ed è un alternative maltese, così come abbiamo, questo facilmente percepibile dal nostro website, un numero elevato di fondi in gestione, questi quattro che ho menzionato poc'anzi sono quelli che abbiamo ritenuto essere i migliori per la circostanza e mi ha fatto peraltro molto piacere poter raccontarlo di fronte alla telecamera, oltre che a tutte le persone che abbiamo avuto il piacere di incontrare in questi due giorni e sono state davvero molte.